Invito a salire sul palco Rinaldo Bellucci e Silvia Gariglio. Se mi date l'ok che è tutto pronto, saluti a tutti, rompo il ghiaccio, soltanto quello e chiamerei sul palco la prima persona che verrà ritratta questa sera, immaginatevi, non deve essere facile arrivare qua, sedersi, Irene, colonna portante del Lab Perrivoli con il quale collaboriamo. Un grande applauso, buon ascolto e buona visione. Grazie a tutti. 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 E proseguiamo con il Lab Perrivoli. Pasquale. Grazie a tutti. 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 Esauriamo due persone del Lab Perrivoli per arrivare ad una persona che probabilmente tutti i rivolesi conoscono, perché è una persona che pratica la mobilità sostenibile da sempre. Carla. Grazie a tutti. 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 Grazie a Chiara. Grazie a primero. e adesso, se vi ricordate, è stata la prima persona che è stata ritratta. da Irene della Perrivoli. Adesso arriva Alessio. Alessio e Irene, entrambi in bicicletta! Ne dovranno comprare una ancora più piccolina presto. coraggio e A Lessio. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.